Non è concepibile passare così tanto tempo per il suo papà, sì anche per la sua mamma, ma per la sua mamma non è possibile stare così. È una lunga battaglia quella dei genitori di Martina Rossi, la 19enne che morì precipitando dal balcone al sesto piano di Nutella Palma de Mallorca nell'agosto 2011. Bruno e Franca non hanno infatti mai creduto all'ipotesi del suicidio. Adesso sarà celebrato un processo, il GIP del Tribunale di Arezzo Pier Giorgio Ponticelli ha infatti deciso il rinvio a giudizio per Luca Alessandro e due giovani di Castiglion Fibocchi accusati di morte come conseguenza di un altro reato, la tentata violenza sessuale. Non parlerei nemmeno di vittoria, era un percorso naturale, frutto di un lavoro fatto che ha teso a recuperare le mancanze gravi che sono emerse dalla Spagna, secondo me da un comportamento inconcepibile che hanno avuto. Per l'accusa Martina non si sarebbe suicidata, bensì sarebbe caduta nel disperato tentativo di sfuggire ad una violenza sessuale da parte dei due giovani. In un primo momento gli investigatori spagnoli archiviarono il caso, convinti che quella morte fosse un suicidio, a riaprire il fascicolo alla procura di Genova, poi passato ad Arezzo. Le mancanze iniziali che pesano sono state non aver approfondito correttamente gli esami sul corpo di Martina, non aver approfondito le tracce sul corpo di almeno uno dei due imputati che presentava un graffio visibile e chissà che cosa non visibile, non aver fatto un rilievo serio della camera di albergo e non aver sentito nell'immediatezza le persone che potevano riferire dei fatti utili. I legali degli imputati chiedevano il proscioghimento. Noi non ci dobbiamo difendere dal processo, noi ci difenderemo nel processo e siamo, ripeto, sereni perché i nostri assistiti, io parlo per il mio, il mio assistito è assolutamente estraneo, è fatti innocente. Si è parlato e si discuterà se si è accaduta involontariamente dal sesto piano. La tesi del suicidio è tesi spagnola, è sicuramente una tesi attendibile, che possiamo fare nostra, non che sia la nostra, che non abbiamo sposato ne sposeremo, che condividiamo ma non sposiamo, anche perché, ripeto, noi lassù non c'eravamo.